Il perché dell'economia toscana che non riparte è la guerra, il terzo mandato del sindaco Biffoni, probabile, è la guerra e poi le mascherine, il Green Pass, le nuove regole e la guerra. La guerra resta sempre sullo sfondo purtroppo di questo nostro viaggio che facciamo ogni mattina per raccontare le notizie nazionali e locali, lo facciamo ancora una volta oggi, venerdì 29 aprile, a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri vantaggi di essere socio. Buongiorno, tra le centinaia di consigli che mi sono arrivati in questi giorni per questa rassegna stampa, ce ne sono tanti che ci hanno aiutato a migliorare e mi hanno aiutato a migliorare l'approfondimento dei giornali, vi ringrazio per questo, vi ringrazio per questo affetto, ma ce n'è uno tra questi che ci sentiamo di, mi sento perlomeno di non seguire, cioè quello di abbandonare il racconto della guerra e per quello che poco fa nell'introduzione ho affiancato la guerra ucraina a tutti i fatti del giorno, questa è una trasmissione che prova a fare il punto sull'informazione in un certo modo, cercando di approfondire anche quelle che sono le dinamiche che stanno dietro la formazione della comunicazione che i giornali propongono ai lettori e uno degli errori che ci sentiamo e mi sento di non fare quello di abbandonare il racconto della guerra, quello di non farlo diventare noioso o ancora peggio scontato, quello di non abituarci, come abbiamo detto dal primo giorno, a questo conflitto e quindi continueremo a raccontarlo a fianco a tutte le notizie del giorno e lo facciamo oggi accanto a delle notizie locali, anche importanti, perché sono nate in questo studio, ad esempio andiamo sulla prima pagina della Nazione di Prato di quest'oggi che rende conto e merito non solo del fatto che ci siano i soldi, come vedete nel titolo principale per l'ospedale, per la nuova palazzina dell'ospedale, la conferenza Stato-Regioni dall'atteso via libera alla palazzina esterna, si parla dell'ospedale di Prato, ma ancora lo fa con la foto notizia iniziale della prima pagina parlando del terzo mandato possibile di Matteo Biffoni, la tentazione viene chiamata di Matteo Biffoni l'articolo di De Biase, leggiamo il piccolo corsivo come ogni giorno di David Bruschi che compare sulla prima pagina della Nazione, dunque Matteo Biffoni non dice no, dice invece che ci penserà a ricandidarsi se il terzo mandato per i sindaci dei grandi comuni finora vietato dovesse diventare realtà. Leggiamo appunto questo piccolo spezzone perché il sindaco lo ha detto qui ieri durante il suo intervento in questa rassegna stampa e ci fa piacere anche capire che esistano attraverso il ragionamento, ed è proprio quello che vogliamo fare, attraverso il confronto delle possibilità anche di creare un dibattito in città, a partire dalla cultura giornalistica, a partire da ciò che accade sui giornali. Interessante, tornando su Bruschi e su il suo ragionamento, è appunto il retroscena che lui ipotizza, dice Bruschi è uno smottamento piuttosto evidente rispetto al passato quando la domanda riguardava semmai quale orizzonte volesse darsi l'attuale sindaco di Prato una volta tagliato il traguardo del 2023. La verità, scrive Bruschi, è che il taglio dei seggi in Parlamento, 345 in meno a partire dalle prossime elezioni politiche, ha innescato una serie di effetti a cascata, uno dei quali è proprio l'idea concretizzata da un accordo lega PD sul terzo mandato, ed è questo il fuoco della questione. Nel cielo della politica gli scenari cambiano alla velocità del vento e qui siamo all'inizio. Poi già che ci siamo restiamo sulla prima pagina della Nazione e vediamo quest'oggi che ci sono delle notizie che riguardano la città, scelta sul sito Hub, ovviamente si parla del Consiglio Comunale Speciale che ci sarà sul Lab del Tessile e ancora una notizia che ieri Biffoni anticipava proprio qui ancora una volta, cioè l'Europa premia 100 città pioniere, c'è anche Prato, 36 milioni di Euro nei prossimi due anni per ridurre l'inquinamento, emissioni e consumi, qua si fa riferimento ad un bando vinto dal Comune di Prato. Passiamo ancora in questa rassegna che oggi parte dal locale al Tirreno che dà conto della stessa notizia, appunto oggi dico sì al terzo mandato Biffoni e i paletti da sindaco in questo articolo di Petrella. Voglio precisare che ieri poi ovviamente nelle questioni di cronaca abbiamo anche intercettato nuovamente il sindaco che precisava che il suo intervento era legato al fatto che in sostanza a lui piacesse molto questo ruolo e che non fosse da intendere il suo gradimento per un terzo mandato come una volontà di farlo. Però è interessante capire che muovendo nella scacchiera le pedine probabilmente ci potrebbe essere anche questa possibilità. Al Tirreno anche di Prato segnalano il rientro tra le 100 città europee che riceveranno i fondi e stesso copione per quanto riguarda Roma approvati i fondi per ampliare l'ospedale. Quindi c'è una sostanziale conformità delle prime pagine di Prato. Passiamo alle prime pagine nazionali in un salto logico che rende anche insomma coerente quello che vi stavo dicendo in apertura, ovvero il fatto che non abbandoniamo il racconto della guerra. Bombe su Kiev sfida all'ONU, questa è la prima pagina del Corriere della Sera, una notizia molto importante. Che cosa è successo? Questo titolo racconta del fatto che il segretario dell'ONU, Gutierrez, si sia recato a Kiev in viaggio istituzionale e che proprio in quelle ore ci sia stato un raid, un bombardamento russo sulla città. Biden, a Zelensky, armi finché ci sarà l'assalto e altri 33 miliardi. Anche questo è un aspetto importantissimo della giornata, lo sottolineiamo perché la verità è che purtroppo ci siamo di fronte ad un ennesimo salto di qualità di questo conflitto. che è comprovato dal fatto che il Presidente americano abbia stanziato 33 miliardi di dollari per corroborare l'aiuto all'Ucraina e quindi purtroppo amplificare quella che è la crepa con la Russia rendendola una guerra per niente fredda che assomiglia sempre di più al conflitto che si è temuto per lunga parte del dopoguerra e che invece oggi si affaccia. Importantissima anche la notizia che anticipavo prima, addio mascherina anche in ufficio viaggi senza limiti, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini dalla prima del Corriere della Sera da maggio via la mascherina anche in ufficio, resta obbligatoria solo per treni, aerei ed eventi al chiuso. Addio al Green Pass. Informazione di servizio è molto importante riguardo a tutte le nostre vite e sostanzialmente dobbiamo capire che stanno cambiando le regole e diciamo così sta arrivando una nuova era in questa lotta alla pandemia. vediamo anche che i giornali lo raccontano in maniera diversa tra di loro, c'è chi come il Corriere appunto parla di addio alla mascherina e quindi diciamo cela un approccio più diciamo così responsabile, chiamiamolo in questa maniera o comunque più cauto rispetto alle scelte del governo fino ad oggi e c'è chi invece come il quotidiano nazionale, quindi la nazione, il giorno e il resto del Carlino sceglie un altro approccio, anche questo vi raccontiamo qui a prima di tutto l'approccio dei quotidiani e appunto il primo titolo di apertura di questo giornale, del quotidiano nazionale, sostanzialmente è un titolo invece che è critico rispetto a questo, dice avevamo capito male, la mascherina resta, si rivelescono in particolare al fatto che l'obbligatorietà resti sui mezzi pubblici, sugli aerei e per gli eventi al chiuso. Ancora andiamo a scorrere le prime pagine molto velocemente, il sole 24 ore rende anche merito di questa notizia, Bruxelles fondi al sostanzialmente PNRR per frenare gli effetti dell'inflazione, questa è la notizia con cui sceglie di aprire il sole 24 ore e in sostanza anche questo è molto importante perché sappiamo che stia per arrivare a un periodo complicato dal punto di vista dell'economia, di cui parleremo tra pochissimo anche guardando i giornali regionali. Gas, prezzi in calo, quello che occorre sapere per capire le scelte europee, quindi l'articolo di Bellomo. Andiamo ancora avanti superando le questioni economiche, andiamo sulla prima pagina della Repubblica, missili sull'ONU, e questo ancora purtroppo i venti di guerra sono il principale titolo di tutti i giornali, ma qua sulla destra anche una notizia che riguarda il lavoro, il lavoro che è protagonista per ovvi motivi, siamo alle soglie della festa dei lavoratori, salario minimo Orlando in tasca il sì di Landini, è un articolo di Giovanna Vitale che racconta della proposta del Ministro del Lavoro Orlando, che però è in forte contrasto con Confindustria in questo momento, quindi agendo sul salario dei lavoratori vorrebbe risolvere alcuni dei problemi che affliggono l'economia e il ceto dei lavoratori. Andiamo ancora avanti con i giornali regionali, come promesso il Corriere Fiorentino per primo, così la guerra dimezza la crescita, questo è quello che vi stavo raccontando, i rincari dell'energia peseranno per 8 miliardi sulle imprese, qua si parla di Toscana, per oltre 1700 Euro sulle famiglie. Gianni, patto per la ripartenza, è quello che propone il Presidente della Toscana. Questi dati, questo studio è stato effettuato dall'IRPET, l'Istituto di ricerca della Toscana che certifica la gelata sulla ripresa di questa regione, PIL a più 2,4 invece del 4,6% previsto, quindi nel migliore dei casi il PIL sarà dimezzato. Proprio a questo proposito vorrei approfondire immediatamente e vorrei andare sul punto con l'articolo di Mauro Bonciani. Anche nello scenario migliore, scrive Bonciani sul Corriere Fiorentino, il prezzo che l'economia e la società toscana pagheranno nel 2022 per il sovrapporsi della crisi innescata dall'invasione della Russia in Ucraina e dal caro prezzi sarà molto alto, un dimezzamento della crescita della regione, niente PIL prodotto interno lordo al più 4,6% come previsto appena lo scorso 15 gennaio, ma un più 2,4% che certifica la gelata della ripresa che si era innescata dopo il rimbalzo del 2021. Prima di leggervi i dati vorrei sottolineare il fatto che nel migliore dei casi o nelle migliori delle ipotesi è una locuzione in questo caso molto importante perché proprio le notizie che vi abbiamo letto prima dei quotidiani nazionali, cioè quello di un aggravio del conflitto anche a livello internazionale, purtroppo rendono quella locuzione un ammonimento più che reale. In realtà anche questo più 2,4% del PIL toscano potrebbe essere messo in seria difficoltà, cioè ci potrebbe essere una nuova previsione addirittura vicina allo zero qualora dovesse continuare l'escalation non solo militare ma anche di sgarbi che continuano fra le nazioni, in particolare fra la Russia e l'Europa, fra la Russia e gli Stati Uniti, fra la Russia e i paesi della Nato per intenderci, riguardo anche al gas, all'energia, sappiamo qual è l'importanza e non ci stanchiamo mai di dirlo di questa vera e propria guerra nella guerra. Andiamo ancora avanti, volevo passare alle prime pagine ancora regionali passando dal Corriere a Repubblica Firenze, in particolare andando a sottolineare quello che è appunto oltre alla questione dell'IRPET, del mercato del lavoro con cui apre Repubblica Firenze, gelato dalla crisi, ne abbiamo appena parlato, al fatto che sostanzialmente ci sia un articolo che rende merito di una questione, è avvenuta a Firenze per sanare l'abuso, scambio di terreni, comune e parrocchia, accordo in giunta per Bella Riva ma le opposizioni insorgono in consiglio. Questo articolo di Ernesto Ferrara che approfondisce un po' quello che è accaduto a Firenze in questo particolare caso. Andiamo a vedere adesso invece un articolo da Toscana oggi, settimanale, che ogni giorno cercheremo anche di sottolineare nei suoi approfondimenti, quello di questa settimana ne rica diversi interessanti, in particolare noi volevamo mettere l'accento sull'intervista con il primo e l'attuale Presidente della provincia, perché? Perché la provincia di Prato che appunto a metà degli anni 90 è stata instaurata è a un punto chiave, a un punto focale, vittima, sacrificale di quell'ondata di antipolitica, di populismo, se così lo vogliamo chiamare, che sicuramente ha caratterizzato lo scorso decennio, quantomeno nelle riforme che hanno depotenziato il suo raggio d'azione. Quindi è molto interessante questa intervista di Lucrezia Sandri che appunto compie un'intervista doppia tra il Presidente che diede il via anche con importanti pezzi di città che sostennero la nascita di questo ente e quello che invece attualmente guida l'ente, appunto 30 anni fa nacque la provincia, cosa resta di quella conquista? E appunto l'intervista di Sandri, diciamo così, fa il punto, dando le risposte di entrambi i Presidenti e anche avendo cura di capire non solo quali siano state le condizioni che in passato hanno portato alla Costituzione della provincia, ma quali siano quelle che invece sono alla base di un futuro e di quale tipo di futuro? Cercheremo di approfondire anche questo tema, anche veicolati da questa intervista di Toscana oggi, magari invitando nei prossimi giorni il Presidente della provincia di Prato attuale, Pugelli, perché no? Ora però c'è prima di introdurre i due ospiti di cui sono onorato oggi un piccolo break e subito dopo la pubblicità, torniamo con prima di tutto. Un personale qualificato sempre a disposizione. Banca Alta Toscana, sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Sensi, firmiamo la qualità dal 1890. Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonoscopia da 145 euro, TAC da 110 euro, mammografia da 80 euro, resonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Non si poteva concludere per me in maniera migliore la prima settimana di questa rassegna stampa ragionata, ragionata perché ovviamente cerchiamo di dare una chiave di lettura, ma anche perché, come dicono in Toscana molto bene, ne ragioniamo con degli ospiti e il venerdì cercheremo di farlo sempre con degli ospiti che abbiano a che fare anche con il mondo della cultura. Ovviamente il nostro principale prospetto è quello di chiamare i protagonisti della città e lo sono sicuramente i nostri due ospiti di oggi. Il primo che abbiamo qua in studio è lo scrittore Franco Legni. Buongiorno a tutti. E il secondo invece è il deputato Giorgio Silli. Buongiorno Silli, mi sente? Proprio a tutti. Collegato con noi dal suo viaggio verso Roma, immagino, verso il Parlamento. Sì, sì, sto sto rientrando, ma mi dovete scusare se questo collegamento sarà a fare. Non ho detto, ma non ho detto, ma non siamo veramente tutti, quindi posso andare tranquillamente. Bene, bene, sono contento e allora la coinvolgo molto presto. Volevo partire però da Franco Legni di cui faccio vedere l'opera che oggi esce, anzi è uscita qualche ora fa, se non ricordo male. Due giorni fa. Due giorni fa. Due giorni fa. Due di briscola, Elito da Giunti, un romanzo che ha suscitato molte attenzioni e che racconta in particolare della vita di un uomo. Questo lo diciamo subito, un uomo che vive a Prato, come lei, e che in sostanza ha delle peripezie piuttosto particolari, ma approfondiremo il libro più tardi perché voglio subito coinvolgerla riguardo invece a quello di cui abbiamo parlato oggi come notizie. Innanzitutto lei, diciamo così, non è solo uno scrittore ma è anche un avvocato, quindi un professionista della città e voglio chiederle subito se queste nuove regole sulle mascherine di cui abbiamo parlato e sul Green Pass sono per lei una liberazione oppure una continuità. Come ha vissuto questo periodo? Innanzitutto direi che possiamo provare a darci il tu, visto che ci conosciamo da qualche ora. Io lo faccio per deferenza ma accetto volentieri. Allora, per quanto riguarda le mascherine, sì è vero che è una liberazione perché non ne possiamo più, perché io quando, per fare un esempio, quando vedo un film e ci sono quattro persone che si avvicinano, l'altra vorrei andare lì e fermatevi, state la distanza, cioè c'è entrata veramente dentro questa cosa. C'è dell'ansia quando si... C'è dell'ansia che abbiamo accumulato perché tutta questa questione, anche quella del distacco, ce la porteremo dietro per tanto tempo, sperando che a ottobre la situazione sia differente da quella degli ultimi due anni. Tu hai scritto di più durante la pandemia? No, assolutamente. Ho scritto molto meno, ho letto molto, ma non ho fatto in modo che non entrasse nelle cose che faccio. Anche il libro che sto scrivendo ora, che uscirà più avanti, che potrebbe essere ambientato ai giorni nostri, non ne parla assolutamente. Io penso che di Covid ne parliamo già troppo, la gente non ne può più. E questo non vuol dire che bisogna allentare, bisogna stare attenti per non ricaderci in tutta questa questione. Forse ora è il momento che possiamo provare a togliere le mascherine. Nel resto d'Europa l'hanno cominciato a fare, magari ci sono dei settori che è proprio inevitabile ancora tenerle, ma forse stiamo andando nella direzione giusta. Quali sono le prime pagine che legge uno scrittore quando sfoglia i giornali? O meglio ancora, quali sono le pagine che ti interessano di più, visto che ci diamo del tu? Si va sulla cultura, sullo sport, oppure la politica? Non so. È lunedì lo sport perché devo controllare il fantacalcio, ma tendenzialmente… Emerge anche dalla tua narrativa che sei un eterno bambino, te l'avranno detto mille volte. Sì, avevo una finta fidanzata che mi chiamava Peter Pan, o Peter nei messaggi. Ho avuto un'adolescenza lunga, mettiamola così. Sento la risata in collegamento di Giorgio Silli, le chiedo onorevole se per caso anche a lei hanno mai affibbiato la sindrome di Peter Pan. No, allora, io ho forse un po' il fantacale, nel senso che già a 14 anni ti vestivo come un vecchio e quindi sono assolutamente interessi con adesso, ma devo dire che io ho sfruttato un grande attenzione, Franco Legle, insomma, lei, per dire, lo sta, vorrei dire, iniziando, cioè Franco Legle non è uno scrittore, è una via familiare della nostra città, è un punto di riferimento, è un coppino, un leader, quindi sono felici, e conto che un mio carissimo amico, fin dai tempi della moderativa universitaria, sono felicissimo di prenderlo oggi in trasmissione insieme a me, ma dimentificano sempre per parlare dei processisti, di troppo, della guerra, come le mascherine, come il Covid, insomma, per sframmatizzare in prima mattina, è possibile che vengono aiutare a tutti i paesi che vengono la permissione a portare meglio la giornata. Certamente, onorevole, ma infatti il senso è proprio questo, noi vogliamo parlarne, ma parlarne anche con la giusta leggerezza a volte, però a questo punto la chiamo subito in causa, le chiedo, invece lei quali sono le cose che legge per prime nei quotidiani la mattina? Già che ci siamo, le chiedo, che tipo di libri legge lei? Allora, diciamo che oggi il cartaceo, il quotidiano è un pochino stato accantonato, io ho la fortuna di ricevere nelle rassegne stampa, insomma, che chiunque faccia impresa, faccia politica, ossia parte delle associazioni di categoria, quindi io ricevo già una selezione la mattina molto presto da parte del mio ufficio stampa e da parte dell'ufficio stampa del partito e della camera. Poi io sono a questa strana, perché io alle 5 e mezza della mattina sono in piedi, faccio colazione e diciamo alle 9 e mezza ho fame, come se fossi io dal pranzo, quindi io l'assegna stampa prestissimo a mattina, in dubbio che io mi colleghi costantemente anche quando sono a Roma alla camera con il sito di bucato.it, che per sì si può essere rapiti dalla passione per la politica nazionale e internazionale, ma insomma, il cuore è sempre a Prato e io sono capissimo di nuovo, quindi non potrei passare tutti i tre ore senza controllare i siti di fuori passare dalla città. Sapevo, sapevo di questo fatto che lei si svegliava presto e probabilmente a questo punto abbiamo qualcosa in comune in più che il nome. Senta Franco Legni, invece volevo chiedere a lei, lei invece di politica si interessa anche in città? Certo, come no, è inevitabile, alla fine Prato è una città che sembra un paese, perché siamo quasi 250 mila con la provincia, tutto quanto, ma le cose della politica vengono seguite come la politica di paese. Come vede questa prospettiva su un terzo mandato di Biffoni? Ovviamente, ripeto, per la terza volta oramai oggi, però è importante essere attinente alla realtà, non è ancora una legge vera, Biffoni non ha detto voglio candidarmi, ha detto semplicemente mi piace fare questo mestiere, però glielo chiedo perché è sul tavolo. Alla fine può essere un'ottima idea, nel senso Matteo ha fatto secondo me un ottimo lavoro nel tempo, sicuramente ci si potrebbe fare delle critiche su tante cose, ma si può anche dire che ha molto svecchiato il modo di fare politica in questa città, magari anche in continuità con chi c'è stato prima, è stato bravo a utilizzare anche le cose buone fatte dal suo predecessore. Il terzo mandato sì, anche se è pericoloso, perché poi abbiamo visto che la Russia di cui si parla tanto, c'è una persona che di mandati ne sta da 25 anni circa, li sta continuando a prorogare. Il sindaco Biffoni non sarà tanto contento del parallelo con Putin, però è interessante anche questa cosa. Voglio capire invece cosa ne pensa l'onorevole Silli, lei invece come lo vede un possibile terzo mandato di Biffoni? Il dibattito politico in Italia si parla sempre, non è sul momento che va di moda, ora per due settimane si parla di una ipotetica legge che stabilirebbe la possibilità del terzo mandato per il sindaco città, ma se ne parla solo simile, perché nelle condizioni di abbatano e al senato non c'è questa cosa. Nei dibattiti politici interni dei palazzi non c'è. qualora ci fosse, insomma, una scelta politica, più del partito che rappresenta Biffoni che non di parte Biffoni stesso. Io veramente sto facendo una riflessione politica, cerco di farla magari assenegata dall'interventismo e dall'attualità, anche dal momento dalla moda del momento. In Italia si tende molto a fare politica e a votare l'università di Biffoni moda. Io ho cercato di fare una riflessione un po' più approfondita anche in una giusta di una legge elettorale che dopo le elezioni amministrative, cioè a giugno, con molta qualità cambierà e tornerà in proporzionale. Quindi, ecco, la prossima volta che sarò in studio con lei, caro Bernatini, faremo una riflessione un po' più approfondita. Certo, certo. No, no, no. Il risultato di Biffoni, ecco, è chiaro, ogni scelta che si fa in politica ci se ne assume la responsabilità. E oggigiorno la politica è talmente schizofrenica che da un mese a un altro, da una settimana a un'altra, cambia. Quindi sicuramente Biffoni ha fatto una cosa di buona, perché è chiaro, io non mi sento di associarmi interamente a quello che ha detto Franco Legni. Matteo Biffoni è sicuramente una persona reale, è un amico, ma da un punto di vista politico è chiaro che io abbia una visione diversa. Ecco, questo mi interessa, io mi ricordo che ci sarà la possibilità di fare il testo mandato, cosa che non è assolutamente scontata, perché al momento non è l'ordine del giorno. Ecco, io mi ricordo quando eravate avversari in Consiglio Comunale, sia quando lei era sui banchi del governo della città e Biffoni era seduto all'opposizione, sia quando lei era invece all'opposizione di Matteo Biffoni. Siete stati avversari tante volte? Ovviamente è anche una domanda per andare oltre quelle che sono le dinamiche di questa riflessione che faremo insieme quando lei verrà in studio, però le chiedo, lei sta venendo a Prato? Mi dicono che viene spesso a Prato, ma non è che per caso sta pensando a qualcosa per l'avventura elettorale? No, non personalmente, però che cosa c'è all'orizzonte, sul fronte opposto, visto che ha detto che siete avversari, riguardo alle prossime amministrative? Allora, non è che io vengo spesso a Prato, io sono di Prato, io vivo tra Prato e Roma, perché oltre che in Parlamento essere a Roma io ho anche moglie romana, quindi diciamo mi divido in una tra Prato e Roma, sono a Prato mediamente metà giorno della settimana e metà sto a Roma. Io sono a Prato del mio collegio elettorale, perché io rappresento la città di Prato e il collegio di Prato, ed è un dovere mio mantenere un rapporto con gli imprenditori, le imprese, gli artigiani, le istituzioni, quindi ogni lunedì e ogni venerdì le giornate sono strappiene di appuntamenti, oltre che la vita della carità, chiamiamola così, reale, cioè extra politica a Prato. No, io prenderei il carro davanti ai luoghi, da qua al 2034 settembre. E dopo casi che la politica cambia da una settimana o l'altra, si immagini lei da 32 anni che cosa può succedere. Certo, certo, capisco perfettamente questa riflessione, può succedere di tutto e quindi non esclude niente, questo insomma mi fa capire anche il suo discorso. Nella vita non bisogna mai escludere niente, nell'amore, nel lavoro, nella politica, nella fede, e quindi se le faccio la domanda di che cosa vuole fare da grande, lei mi dice che non lo sa, come ha detto Biffoni ieri. No, se volevo farlo, l'ho fatto nel 2019, quando ha rivolto in Coppa e quando, come dire, il centro-destra, sull'onda della vittoria del 2018, avrebbe per me su una vittoria di attraverso gli occhi dei sondaggi, sicuramente con un po' di intento sarebbero stati fondamenti impossibili di non provare il successo, però la vita non è che si può fare niente. E perché non si è candidato? No, lo so, il centro di quando è, perché se uno è l'elemento, per fare il deputato, per fare il sofferto, la vittoria del 2019, è possibile rilanciare che non faccia il silenzio, un po' di seguità in politica che sia necessaria, se non ci sia necessario. Certo, poi magari quando verrà qua di personale chiederò anche quali sono i nomi giusti. Io volevo chiedere a Franco Legni, però uscendo un attimo dal seminato della politica stretta, so che possiamo farlo anche con Giorgio Silli, perché è uomo di cultura, immagino, insomma, oltre che di politica, è anche di cultura prattese, perché viene da una famiglia, insomma, in cui il tessile è protagonista, come in gran parte delle famiglie di Prato, proprio di Prato voglio parlare con lei, Legni, anzi con te, Franco, visto che abbiamo chiesto di darci del tu, questa Prato emerge molto forte dai tuoi rimandi, anche da due di briscola, è un, diciamo così, un segnale importante, interessante che voglio approfondire, perché tu sei uno che comunque ha viaggiato, insomma, in tutto il mondo, hai viaggiato molto, ecco, anche siccome ci diamo del tu e ci conosciamo, lo dico, hai viaggiato tantissimo, ma viaggiando tanto mi immaginavo che tu potessi, oltre a qualche piccola, diciamo così, qualche piccolo spin-off che comunque esiste, è anche molto importante, però potessi ambientare altrove il tuo romanzo, invece è ambientato a parte, intanto spieghiamo la cronologia, due di briscola arriva prima di Ionichi Moretti? In editoria indipendente è uscito prima, ma Ionichi Moretti, che era l'altro libro, in realtà era un prequel. Esatto. Quando Giunti mi ha chiamato si è parlato un po' di questa consecucia e è stato stabilito di andare in ordine. Cronologico. In ordine cronologico. Poi se uno vorrà farci una serie… È liberissimo di farci sapere che siamo tutti ben contenti. Non lo possiamo dire, ma ci sono… Dei maneggiamenti. Da giornalisti ci sono, posso dire che da cronista ho fiutato degli interessi anche cinematografici rispetto a questa opera letteraria e comunque perché Prato? Ma Prato innanzitutto perché tu partivi dal presupposto di aver viaggiato. A Prato non c'è bisogno di viaggiare, per vedere il mondo basta stare, basta darsi un'occhiata nei vari quartieri. Perché come diceva Malaparte il mondo ci viene a finire. È certo, è certo, è certo. Assolutamente secondo me è una realtà fighissima, nel senso che a Prato vivono, quanto abbiamo detto, ne parlavi, mi sembra, con Gianni o col sindaco, non mi ricordo quante nazionalità… Beh, più di 150 di sicuro. Più di 150 nazionalità che vivono in un fazzoletto di terra e non è successa mai la battaglia di Los Angeles, non c'è mai stata una ribellione, cioè è un esperimento Prato, è un bellissimo esperimento, è un laboratorio perché alla fine di integrazione e quindi è molto interessante. E poi molti ambienterebbero a Firenze magari i propri romanzi, perché Firenze è una vetrina, è bella, è splendida. A parte se lo facessi, il signore in collegamento che insomma di pratesità è un virtuoso assolutamente mi toglierebbe il saluto. Quindi per evitare che diceva che a 14 anni lui era vestito già come il piccolo lord… Me lo ricordo molto bene, per me Silly è un po' il Benjamin Button per tornare alla letteratura, perché forse ora si concede un po' il colletto aperto, una volta era molto più impunturato e molto più piccolo lord. Ma secondo me poi il mio personaggio è un personaggio sfigato e deve partire da una città come Prato, che all'apparenza per tutti è la città dei cinesi, è una città vicino Firenze, però poi li sorprendiamo, perché poi a Prato viene fuori che il livello dello star bene è alto, che il tessile è finito ma ci stiamo rinventando, ci sono tante realtà, c'è quella del cinema, c'è un sacco di cose. Ma infatti questo voglio dire, il suo personaggio poi sarà anche uno sfigato, ma è uno sfigato che piace, perché poi alla fine si rende conto che chi lo legge che è una persona autentica. Non si può rimanerne affascinati. Forse questo somiglia alla città, più che a lei. Certo, 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 ma infatti lì volevo arrivare, cioè somiglia molto alla città, perché in fondo pur essendo magari cattivo, pur essendo un personaggio controverso, è comunque uno affascinante o perlomeno è un personaggio per il quale si comincia a parteggiare dopo un po' che lo si conosce, ci si riconosce in lui e secondo me chi viene a Prato alla fine trova il modo di riconoscersi in qualcosa, è talmente variegata che tu stesso sei... di origini, sei urbinate, però alla fine da qualche anno sei qua e sei già più pretese di molti altri. Confermo, chiamiamo in causa il più pretese di tutti, onorevole, si sente chiamato in causa rispetto a questo, rispetto alla pretesità che fu, ovviamente c'è un personaggio in questo libro che si muove dentro una città che lei ben conosce, le chiedo, ha letto questo libro innanzitutto e se non lo ha fatto conosce comunque l'opera, immagino, di Franco Legni, ci ritrova la sua Prato? Sì, sicuramente, come dire, l'opera prima quello scritto, il libro che ho scortato l'intervento dell'amico Legni, e mi ritrovo in pieno, ma in dubbio, la parte, diciamo, la direzione di questo è finito, probabilmente non voleva dire questo, perché attraversa una grande crisi, perché comunque rimane ancora il nostro business, quello che c'è adesso famosi, non solo nel mondo oggi, ma nella storia, attrezzano delle grandissime difficoltà, in ogni, stiamo combattendo e speriamo di farcela davvero anche questa volta, perché sono sempre difficili a trararsi da certi versi, e anch'io credo davvero che ambientale non sia imparato come, diciamo, blue blue fashion, o come che sia, come ambientazione, in un momento, il motivo è che a partenza di forti capire, io passo le giornate a spiegare ai miei colleghi, in un momento, e questa è la nostra città, innanzitutto nessuno si è aspettato a che Prato, per 200 mila, di 250 mila con la provincia, non riesce veramente da raggiungo adesso, c'è, 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 prego, prego, siamo contenti per lei, c'è, 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 c'è. C'è, 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 c'è. C'è, c'è. Prato, Prato, Prato che ha un po' di desequattato, insomma, che si sia trasformati così, da essere ammantati di pessimismo, ogni giorno è veramente un peccato, si deve aprire un colpo di reni e di cercare di uscire da questa, da questa forma mentis che ci vede un pochino... Senza, senza dubbio, senza dubbio, per quanto comunque c'è una razionalità e una voglia di fare che il Pratese, insomma, mantiene, secondo me, il Pratese Medio, visto che siamo in questa mattinata, quella del venerdì in cui parliamo anche di cultura. L'ultima domanda, un'ultima domanda a ciascuno, prima di tutto a te, Franco, proprio su questo, in città, tu vivi la città, sei avvocato di giorno, professionista di giorno, scrittore di notte, ovviamente è una semplificazione, quando scrivi tuoi libri di giorno o di notte? No, di giorno, di notte... Avvocato di giorno, scrittore di giorno. La sera, o meglio orari, ma insomma, no di notte. Di notte si dorme, di notte si dorme, infatti, a parte la semplificazione, volevo chiederti, c'è una cultura della città underground che esce fuori da questo discorso? Perché dico underground, insomma, sotto traccia? Perché c'è, evidentemente, una cultura di cui pure si parla nelle serie istituzionali, quindi il Teatro Metastasio, quindi la Camerata Pratese, quindi il Politeama, quindi il Centro Pecci, e potrei andare avanti a lungo con i Musei di Ocesani, insomma, c'è una cultura mainstream, una proposta ufficiale, ma c'è probabilmente una cultura sotto traccia, che si capisce chiaramente dai tuoi scritti, tu hai vissuto e magari stai vivendo ancora, e quella è una cultura, diciamo così, che è viva, o sbaglio? Ma allora, innanzitutto rego il tiro rispetto a prima, sì, ho detto il testi l'è finito, ma intendevo quello che diceva Sili, anche perché sono figlio di tessitori, quindi se no torno a casa e mi linciano, ma al di là di questo, non ci dimentichiamo, è una città dove ogni dieci anni ultimamente si vince uno strega, anche meno, cioè nel senso, quindi è una città che ha un ritorno 3 negli ultimi 15, esatto, credo sia record imbattibile, e ha un ritorno quindi nella cultura ufficiale, non da poco, cito gli strega perché si sta parlando di letteratura, ma anche in altri campi, c'è Tommaso Santi ad esempio che fa dei documentari che vengono visti anche in festival ufficiali, insomma c'è, anche premiati, anche premiati fra l'altro, c'è una cultura ufficiale abbastanza importante, io stesso pubblico con una casa editrice comunque che è la seconda del paese, quindi alla fine c'è, non paragonandomi a quelli di cui ho parlato prima, ma insomma c'è un tentativo quantomeno, ma provengo appunto dalla pubblicazione indipendente e quando vivevo quella realtà, che vivo ancora per carità di Dio, la mia vita non è cambiata neanche di una virgola, però vedevo che c'era un fervore, c'è sempre qualcuno che anche se non stai pubblicando con la più grande casa editrice del mondo, ti offre di fare delle letture nel suo locale, magari c'è qualcuno che suona, magari, e anche nel mondo degli avvocati ce ne sono un sacco che hanno una passione per l'arte, per suonare, per dipingere, c'è un fervore. Smetterebbe di fare l'avvocato se diventasse uno scrittore premiato dai grandi paicoscenici? Ma la prima cosa che mi ha detto l'editore, che è fiorentino, ma il direttore generale totale è Pratese, che è Jacopo Gori, la prima cosa che mi disse è non farlo diventare un lavoro, perché se no diventi noioso, continua a farlo per divertimento, nei ritagli di tempo, è più entusiasmante. Non smetterei di fare l'avvocato assolutamente, perché è una delle poche cose che mi dà equilibrio, se lascio anche quello finisce davvero allo sbando la mia vita. Onorevole Silli, due domande per lei e chiudiamo. La prima è che cosa dà equilibrio nella sua vita, visto che lei ha citato l'equilibrio e l'importanza di alcune attività per raggiungerlo. La seconda domanda è questa, lei è stato un protagonista rispetto alle politiche dell'integrazione della città, è stato assessore con competenze specifiche, è stato responsabile nazionale del partito di cui faceva parte, che era il partito principe all'epoca del centrodestra e quindi era un ruolo non solo di rilevo regionale, ma addirittura italiano, rispetto alle politiche dell'immigrazione. Prato è cambiata da quando l'ha lasciata lei come amministratore? Sta cambiando in meglio o in peggio? Queste sono le due domande. Allora, la domanda più difficile è la prima, cioè che cosa dà equilibrio nella mia vita? Questa è la prima domanda per la quale si potrebbe, come dire, rispondere prendendosi quelle che... Ma io le do 30 secondi. Sicuramente non, io sono veramente innamorato della vita, l'altro giorno parlavamo di fine vita con alcuni colleghi, se dovessi sapere che è a breve... come dire, potrebbero dire, vi vengiremmo molto di scatole. Sono innamorato della vita nel senso che è una vita veramente stra piena, piena 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 che possa dare libero sicuramente l'organizzazione, che si fa più, ma si fa più, ma si fa più qualsiasi problema, attraverso, basta capire, per me le progettate, 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 per me è molto riportare tutto e corregge una cosa a me, diceva sempre il Kato, ecco qui ha detto Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si può capire solo leggendolo oppure venendo, per chi sta vedendo la trasmissione in diretta, questa sera, venerdì 29 aprile al Capanno Blackout dove presenterai il tuo libro. Ti ringrazio moltissimo di essere stato qua, di aver discusso con noi, di essere stato protagonista del primo venerdì in cui abbiamo appunto esportato questo anche mondo della cultura rispetto ai protagonisti della città. In bocca al lupo e do a tutti quanti appuntamento a lunedì con Prima di Tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.